Avete avuto modo di ascoltare le parole del capogruppo del PD, Ettore Rosato, durante il decreto Banche Venete? Non avete avuto modo di ascoltarlo? Ascoltatelo. Perché ci sono delle obbligazioni che non sono state recuperate e non sono state tutelate. Allora, signori, quelle obbligazioni rendevano l'11%. Quelle obbligazioni rendevano l'11%. Chi va in banca e compra un'obbligazione che rende l'11%? Si chiede come mai rende l'11%. Io sono perché noi troviamo le misure per tutti, anche per quei risparmiatori lì. Ma dobbiamo essere consapevoli che quando si parla di soldi pubblici dobbiamo saper fare le distinzioni. Sono indignata per le frasi dette in Parlamento dall'onorevole Ettore Rosato, che ci ha considerato speculatori in quanto le obbligazioni ci fruttavano l'11%. È falso. Questa cedula dimostra il tasto irrisorio, 0,79. Non siamo capitalisti, tantomeno speculatori. Ecco, questi sono i risparmi che vi faccio vedere azzerati. Noi chiediamo che il Senato elimini la data del 12 giugno 2014 e qualsiasi altro paletto di credito affinché lo Stato tuteli veramente tutti i risparmiatori. L'articolo 3 della Costituzione è stato violato con l'inserimento nel decreto del 25 giugno, ora l'esame del Senato, della data del 12 giugno 2014, che salva con ristoro soli i sottoscrittori anteriori, escludendo tutti gli altri. Le parole dell'onorevole Ettore Rosato, che ci chiama speculatori, offendono la nostra dignità e onestà in quanto le obbligazioni fruttavano il 2,15%. Per questo chiediamo l'intervento dello Stato. Così come avete sentito, il capogruppo del PD dice che gli obbligazionisti speculatori, quelli che avevano un alto rischio in capo alla propria obbligazione e che quindi percepivano un interesse pari al 10-11%, non verranno rimborsate. Non è vero. Abbiamo scoperto che ci sono obbligazionisti che hanno in mano obbligazioni che rendevano addirittura il 3% che a causa di questo decreto capestro che ha fatto il PD non verranno risarciti, i risparmi di una vita andranno in fumo. E allora vi spiego per bene cosa è successo. Noi avremo oggi due cittadini, il cittadino Mario e il cittadino Giuseppe, che hanno in mano la stessa identica obbligazione. Un'obbligazione che gli garantisce un rendimento del 3, 3,5%, quindi un rendimento privo di rischio. Ebbene, a causa di questo decreto, il cittadino Mario verrà rimborsato, il cittadino Giuseppe non verrà rimborsato. Perché? Perché il cittadino Giuseppe ha acquistato queste obbligazioni da Banca Nuova. Banca Nuova è una banca del gruppo Banca Popolare di Vicenza, che nonostante fosse a conoscenza del fatto che a ottobre 2014 quei titoli non valessero più niente perché Banca Popolare di Vicenza aveva avuto dei risultati pessimi agli stress test della BCE, ebbene Banca Nuova dopo neanche 15 giorni vendeva quelle obbligazioni che garantivano il 3%, quindi non avevano in sé il vero, il reale rischio di quella banca, vendevano quelle obbligazioni ai cittadini ignari. E quindi siccome nel decreto c'è scritto che chi è acquistato non dalla banca emittente ma da un'altra banca, ma ricordiamo che Banca Nuova fa parte del gruppo Banca Popolare di Vicenza, anche nel logo sopra c'è scritto Banca Nuova, gruppo Banca Popolare di Vicenza. Ebbene quei cittadini che hanno avuto, che sono stati secondo me truffati, perché è una truffa o se non lo è si avvicina tanto, ebbene quegli obbligazionisti che hanno acquistato dopo il 12 giugno 2014 queste obbligazioni non da Banca Popolare di Vicenza ma da una sola controllata, perderanno tutto, i risparmi di una vita. E questa è la prova che il PD non è vero che vuole salvare i risparmiatori, perché come avete potuto vedere dai contratti, questi cittadini erano semplici risparmiatori e non possono essere chiamati speculatori perché la percentuale di guadagno era la stessa identica di un titolo di Stato. Seguiteci, mandateci tutto il materiale possibile, se avete casi simili, situazioni simili vi prego di comunicarcele perché dobbiamo far cambiare idea al PD e cambiare questo decreto per riuscire a risarcire tutti i cittadini che hanno investito senza avere certezza del rischio a cui andavano incontro.